Dalla tragedia del Raganello è trascorso circa un mese, impossibile dimenticare quanto accaduto, in particolar modo per le famiglie che hanno perso i loro cari, ma anche per i feriti e per l'intera comunità. E proprio nel giorno in cui ricorrerà il mese dal dramma, Civita ricorderà le vittime, ovvero i nove escursionisti e la guida. Tutto verrà giovedì 20 settembre, nella chiesa madre di Santa Maria Assunta, e il momento centrale della celebrazione sarà la Divina Liturgia, presieduta dal Vescovo delle Parchie di Lungro, Monsignor Donato Oliverio. Subito dopo la cerimonia religiosa è stata organizzata una fiaccolata che la chiesa madre muoverà verso il punto panoramico Belvedere, dal quale è possibile scorgere in parte la zona nella quale si verificò l'onda di piena che travolsa le dieci vittime. Alle 21.30 infine, in programma, sempre nella chiesa madre del paese, un omaggio musicale organizzato in collaborazione con la Scuola Superiore di Musica Francesco Cilea di Castrovillari con un concerto per pianoforte dei maestri Rodolfo Pons Montero e il Daester Salvador Mendoza.